Oggi faccio il coppio con un messicano, c'è la panza, il sombrero. Si chiama Rodriguez. Agente Rodriguez, è incantata. È incantato pure io. Siamo una squadra. Scambiamoci i numeri. Ho team per due. Con un uccio gusto. Team per due, con due euro a settimana. Chiamate sms gratis con il tuo numero team preferito. Vedi, la primera. Sei in grana adelante. Ma è sicuro? Andiamo. Sei incantato il cambio. Ma non è l'adelante. Sono un motore se straniero. Vedi, il niavola che è meglio.